E ciao a tutti amici sono sempre io, Golder, benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica TechPlace Allora, questo primo episodio segna l'inizio della serie dei tutorial E appunto nel primo episodio direi che partiamo dalla base del gioco di Space Engine Cioè come cambiare la modalità, cioè passare dalla Stable Branch alla Death Branch e tutte queste cose Allora, prima di tutto dovete andare sulla vostra libreria di Steam Non importa se andate su Dettagli, Elenco Giochi o Griglia dei Giochi Cliccate con il tasto destro su Space Engineer e andate su Proprietà Qua dovrete andare alla sezione Beta Dovrete poi selezionare, sotto Seleziona la Beta a cui vuoi partecipare, la vostra versione, cioè quella che volete scaricare Io adesso sono in Develop Branch proprio perché l'ultimo aggiornamento, cioè quello enorme, è stato rilasciato sotto questo branch Trovate anche qua la compatibilità con le DirectX 9 e il sistema 32-bit Tre prototipi di Multiplayer che sono Sasso, Carta e Forbici Ma vabbè, questo qua adesso è passato E poi abbiamo quella normale, la Nessuna, che è la Stable semplicemente Voi dovrete cliccare Develop Lasciate stare quello che c'è scritto qua sotto E allora vi inizierà il download È un download abbastanza grande ragazzotti Io vi dico ho dovuto scaricare 2,7 GB Quindi fatelo a vostro rischio Fatto questo avrete il vostro Space Engineer in Develop Branch Semplicissimo Ora passiamo alla seconda parte di questo tutorial Cioè la configurazione del gioco e alcuni consigli Ok ragazzotti, eccoci qua nella nostra schermata principale di Space Engine Giusto per essere sicuri di aver scaricato la versione giusta Qua sotto in basso dovreste vedere Develop Partiamo dalle opzioni di gioco Allora, la lingua, semplicissima Scegliete voi tra inglese e tutte queste qua E sappiate che l'italiano è tradotto dalla comunità Quindi magari le traduzioni per alcune versioni arriveranno un po' in ritardo La modalità di costruzione Blocco singolo Questo qua vi viene praticamente imposto soltanto in creativa Ma con i tasti CTRL e SHIFT potete semplicemente costruire anche sia in linea utilizzando CTRL Oppure in piano facendo anche SHIFT Mostra i suggerimenti sui controlli Semplicemente vi da alcune informazioni sui comandi base E vi consiglio di utilizzare questa opzione finché non avete preso dimestichezza con essi Mostra suggerimenti di rotazione Io ragazzi questo qua ve lo consiglio E riguarda soprattutto i tasti per ruotare i blocchi Animated Block Preview semplicemente dà l'animazione del blocco quando lo girate mentre volete costruire Show Building Size Int semplicemente vi aiuta a capire quanti blocchi state costruendo Ad esempio se costruite una linea Questo qua vi conteggerà i blocchi Mostra il mirino Vi dà la possibilità di vedere il mirino Disabilita oscillazioni testa Bloccherà la visuale del vostro ingegnere E semplicemente non la vedrete muovere Comprimi sabbataggi è un'opzione che vi aiuta a risparmiare spazio sul disco di archiviazione Io la tengo sempre attiva perché con un alto numero di backup automatici del gioco Questo può diventare un po' ostico effettivamente Mostra nomi giocatori Nulla di più ovvio Semplicemente vi fa vedere i nomi dei giocatori Releasing Alt Resets Camera Semplicemente questo qua se premete Alt quando siete in gioco La visuale vi ritorna nel punto di inizio Quello di default E appunto vi risetta la telecamera Dopodiché qua abbiamo l'opacità dell'interfaccia del gioco Abbiamo quella generale E poi questa qua del background Che è per i vari inventari Passiamo adesso invece alle impostazioni del display Cioè dello schermo Abbiamo qua la modalità video Con le proporzioni non supportate Quelle consigliate in 16 noni Ragazzi questo qua poi varia in base al vostro schermo Poi abbiamo la modalità finestra Che può essere o in finestra Normalissima con i bordi Finestra a schermo intero Cioè la normalissima finestra senza bordi E lo schermo intero Io vi consiglio la finestra a schermo intero Così almeno potete altabbare tranquillissimi Potete viaggiare da una scheda all'altra senza problemi Cattura cursore Se volete lo mettete Se non volete lo togliete È semplicissimo Questo qua varia in base alla modalità finestra Se avete finestra a schermo intero E mettete capture Scusate cattura cursore Allora vi farà vedere anche il vostro cursore La sincronia verticale Io consiglio come consigliano gli sviluppatori Di disattivarla perché il gioco si sincronizza In base alla frequenza del monitor Quindi se avete un 60 Hz State tranquilli Mentre se avete delle frequenze minori Potreste avere dei problemi Passiamo adesso a graphics E qua ragazzi Spendiamo un paio di parole Allora Puntatore hardware Semplicemente Il cursore dell'hardware È indipendente dal frame rate del gioco Quindi se il gioco sta laggando Il cursore comunque funziona normalissimo Abilita effetti danni Effetti particellari E danneggiamenti dei blocchi Quindi le fiamme Il fumo Le scintille E così via Il campo visivo Ragazzi Io vi consiglio di tenerlo a 90 Perché vi fa vedere Un campo visivo appunto Un po' più Un po' più largo Così da non avere Tutta la visuale Bloccata praticamente Sulla mano dell'ingegnere Anche se il predefinito È 70 Sostanzialmente Aumenta la grandezza Del campo visivo Del visore Il preset dei qualità Io adesso ce l'ho su medium Ma vi consiglio di modificare Soprattutto se avete problemi Con il rendering La densità Dell'erba E metterla Dai 0,5 All'1 Oppure io vi consiglio Anche lo 0,5 Che è quello che uso io La vegetation view distance È già al minimo 100 metri E lasciatela così Perché fidatevi Più l'aumentate Più problemi con il rendering Avrete I dettagli del fogliame Ragazzotti Non vanno a modificare Tanto l'esperienza del gioco Quindi potete stare tranquilli Tenendoli a medi E se volete anche ad alti Ma state attenti Poi con le configurazioni Del mondo Soprattutto se mettete Una flora abbondante Quindi tanti alberi Tante piante Filtro anisotropico Se avete problemi Di qualità Vi consiglio L'1x Ma anche il 4x È accettabile Voxel quality E texture quality Questi qua Sono quelli che fanno Tanto Io vi consiglio Di abbassare piuttosto La qualità dei voxel Rispetto alla qualità Delle texture Perché La qualità delle texture Si sente molto di più Rispetto a quella dei voxel La risoluzione delle ombre Ragazzotti Non cambia tanto Però se la mettete a basso Sappiate che è Bruttissima Davvero È inguardabile Quindi vi consiglio Di tenerla a medio L'occlusione ambientale Non cambia molto Ma se avete tanti problemi Con il rendering Togliete anche questa Quindi ragazzotti Io vi consiglio Di tenere O il preset di qualità A medio Oppure Di abbassarlo Seguendo i consigli Che vi ho dato Passiamo adesso All'audio Ragazzotti Qua Non è che c'è Che c'è molto da dire L'avvisi nell'add Se avete poca energia Se avete l'energia bassa Se avete Scusate Se avete la vita bassa Questo vi Vi dà praticamente L'avviso Muta quando inattivo Quando altabate Cioè quando cambiate scheda Il gioco si muta Usa musica contestuale Se state combattendo Se siete in esplorazione Allora La musica cambierà I suoni delle navi Basati sulla velocità Della nave Appunto Io vi consiglio Davvero di tenerla Questa qua Perché dà molta immersione L'eco Anche questa qua Vi consiglio davvero Di tenerla Perché come L'opzione sopra Dà molta immersione Al gioco La chat vocale Questa qua è stata aggiunta Da poco E Questa a vostra discrezione Ragazzotti E la chat Del Cioè il volume della chat Stessa cosa A vostra discrezione Controlli Qua ragazzotti dovremmo parlare di tutti i controlli Ma Semplicemente Vi dico Andatevi a controllare voi Se volete vedere Per esempio Come cambiare il Come cambiare i materiali Con i voxel Per esempio Adesso ve lo faccio vedere Eccolo qua ragazzotti Colore o camera precedente Non c'entra nulla Con il materiale del voxel Assolutamente Però è questa qua l'opzione Io l'ho settata Su il Numero 1 E numero 3 Del tastierino numerico E Mi trovo davvero bene Questa qua Questa qua È l'opzione ragazzotti Del materiale Delle voxelands Quindi Guardatelo adesso E ricordatelo Colore Dei blocchi Eccolo qua ragazzotti Con il tasto P Che è quello di default Abbiamo il lock Del carrello d'atterraggio E il selezione colore Parliamo adesso Delle impostazioni base Dei mondi Quindi andiamo su New game E abbiamo Sia la modalità campagna Che il mondo personalizzato Parliamo un attimo Della modalità campagna Sebbene effettivamente Sia chiamata campagna È una campagna tutorial Ragazzotti Quindi non Cioè è bellissima Assolutamente Però non vi aspettate Una grande missione Semplicemente Sono 5 missioni Molto ben articolate Con il visual scripting In cui vi si spiega Come Come utilizzare Tutti i tasti E semplicemente Alcune meccaniche Del gioco Comunque Passiamo nei mondi Personalizzati E qua ragazzotti Abbiamo tutti i nostri Tutti i nostri Preset Partiremo con Un mondo di asteroidi Per farvi vedere le impostazioni Vabbè Il nome La descrizione Queste qua Normalissime Modalità di gioco Creativa Sopravvivenza Nulla di Eclatante Modalità del suono Ragazzotti Mettete Io vi consiglio tantissimo La modalità realistica Per i suoni Sono davvero bellissimi Poi modalità online Abbiamo la modalità offline La privata In cui i giocatori Possono entrare Semplicemente Se invitati Amici Cioè I vostri amici Possono entrare Tranquillamente Senza il vostro invito E pubblica Chiunque può entrare Giocatori massimi Andiamo da un 16 A 2 Semplicemente Ostilità dell'ambiente Sicuro Nessuna caduta Nei meteoriti Normale Meteoriti cadranno Con una frequenza Dai 5 agli 8 minuti Cataclisma Sotto i 5 minuti Armageddon Dai 2 ai 4 minuti Limite dei blocchi Questo qua poi È da impostare Nel world generate No scusate Nelle avanzate L'autosalvataggio Ogni 5 minuti O ogni volta Che si esce dal gioco Valgono anche i crash Quindi state attenti La tabella delle mod Se volete aggiungere delle mod Sappiate che le mod Che hai scaricate per ultime Vengono aggiunte Nella Vengono aggiunte Proprio per ultime Dopodiché andiamo Nelle avanzate E vediamo un po' tutto Allora Modalità di gioco Qua si può di nuovo cambiare La dimensione La dimensione dell'inventario Se mettiamo su sopravvivenza Può essere cambiata La mettiamo in per 10 Oppure l'efficienza Degli asseblatori E la velocità Delle raffinerie Possono essere messe Sul per 10 Io vi sconsiglio Di utilizzare Realistica Ragazzotti Perché Oddio Voglio fare uno Di quei Di quei survival Veri Fatti bene Ma Non riuscite a sopravvivere Per una giornata Perché ci mettete troppo A fare tutto Quindi vi consiglio Sempre o un per 3 O se ve la volete godere Un per 10 Stessa cosa per la velocità Di saldatura e smerigliatura Parliamo adesso invece Degli oggetti massimi Sopra i 64 Come vi dicono Qua nelle impostazioni Possono incidere molto Sulle prestazioni Ed effettivamente È vero ragazzotti Se mettete 1024 oggetti massimi Vuol dire che La vostra RAM O è altissima Cioè ne avete tantissimi banchi Oppure vi si scioglierà Andrete subito In Insufficienza memoria Quindi Io vi consiglio O un 32 O un 64 Ragazzotti Adesso vabbè Lo lascio così Perché Lasciamo stare Il massimo Dei salvataggi Di backup E beh qua ragazzotti Se avete Un sistema instabile Alzate Tantissimo il numero Ma sappiate che Più le alzate E più salvataggi Di backup Verranno fatti Quindi più spazio Andranno ad occupare Sul disco Parlando di nuovo Del block limit Se lo andiamo A modificare Sulle avanzate Avremo questi due Questi due valori Disattivabili Attivabili Quindi avremo Una massima dimensione Per una nave E il massimo numero Di blocchi Per un player Qua adesso sono disattivati E io vi consiglio Di lasciarli così Ragazzi Perché fidatevi Non andrete mai A superare Il limite Di blocchi Impostato di default Quindi state tranquilli Limita grandezza del mondo Io di solito Lo gioco su il limitato Ma se avete problemi Di prestazioni Vi consiglio di giocare O sui 100 km O sui 50 Evitate i 20 km Ragazzotti Perché è come giocare In una scatola di sabbia Quindi non fatelo I cooldown Delle navi di rientro Questa qua Ragazzi Io vi consiglio Sempre cooldown Disabilitati A meno che Non volete giocare Per l'immersione Distanza visiva Dai 10 ai 20 km Vi consiglio di tenere Al massimo 20 km Non ci sono impatti Sulle prestazioni State tranquilli La durata del giorno Allora Ragazzotti Durata del giorno In base a quello Che mettete Per Che ne so Se mettete 10 minuti Ok 5 minuti di sole 5 minuti di notte Ma se mettete 2 ore Avrete 1 ora di giorno E 1 ora di notte Il che vuol dire Che dovrete giocare 1 ora senza luce Io vi consiglio Di giocare Con 20 minuti Ragazzotti È apprezzabile Abilità spettatore Potrete usare Le funzioni Di Telecamera Quindi avrete I tasti F7 F8 E anche F9 Avremo l'autocura Navi di rientro Ragazzotti Questi qua Sono normalissimi Andiamo a vedere Quelli più Diciamo cruciali Enable air tightness Questo qua Vi permette Di pressurizzare Navi E stazioni Ricordatevi Di tenerlo Sempre ceccato Insieme All'abilità Ossigeno Perché se mettete Uno e non mettete L'altro Non ha senso Stazioni non supportate Sostanzialmente Se mettete Quest'opzione Le griglie Che sono Staccate Da dei supporti Non verranno Non verranno Considerate di nuovo Dinamiche Quando staccate Appunto Da un'altra griglia Per farvi un esempio Con questa opzione Se staccate Una base Che avete attaccato A un asteroide Allora non diventerà Dinamica Semplicemente Rimarrà statica E potrete tranquillamente Riattaccarlo Enable walls Sono i vecchi Cyberhounds E semplicemente Con questa opzione Li attivate Io vi consiglio Di disattivarli Ragazzotti Perché sono Un dito Là dietro Letteralmente Sono buggati Da far schifo E danno fastidio Quindi Disabilitateli Mentre per Gli spiders Che adesso sono Da qua Ecco Anche qua Vi consiglio A meno che Non volete L'immersione Ragazzotti Nel senso Un pianeta ostile Ha effettivamente I suoi nemici In quel caso Allora teneteli attivati Ma anch'io Vi consiglio Di tenerli disattivati Enable drones È l'attivazione Dei droni Quando le navi Le navi di A Sono Sono sotto attacco Allora richiederanno Aiuto E sponeranno Questi droni Vi consiglio Di tenerlo Attivato Se giocate In survival Mentre di Disabilitarlo Se giocate In creative Perché danno Molto fastidio Crypt in game Semplicemente Gli script Attivati nel gioco Quindi potrete utilizzare Il blocco programmabile Ok abbiamo quasi finito Allora Sun rotation Semplicemente Se la togliete Se la togliete Non avrete L'opzione Della durata Del giorno Mentre se la attivate Doverete settare Questa impostazione E nulla Le ultime tre cose Le navi cargo Sono gli NPC L'IA Sponano Di solito Dai 10 Ai 20 minuti Una all'altra E percorrono Una distanza Di 20 km Ad una velocità Senza Smorzatori di inerzia Di 30 metri al secondo Sono varie Gli incontri Quindi non ve li sto neanche A spiegare Magari li conoscete già tutti Incontri casuali Questa qua ragazzotti È forse l'opzione Che meno utenti Hanno mai riscontrato Però esiste effettivamente Se andate in giro Per il vostro mondo Potrete trovare All'interno di asteroidi O così Nello spazio Dei incontri casuali Che sono O delle navi abbandonate Oppure delle stazioni Abbandonate Leggermente danneggiate E ragazzotti Sono davvero davvero belli Io ne ho incontrata Una sola volta Una stazione Ed era spettacolare All'interno dei nostri Vabbè sto divagando Enable convert to station Se avete una nave Avrete l'opzione Di convertirla In stazione Ok Passiamo alle world generation settings Abbiamo due opzioni Quantità di asteroidi Infinito alta densità Vuol dire che vengono Generati proceduralmente E ragazzotti Questa qua è un'opzione Che vi consiglio di attivare Soltanto Se avete il mondo infinito Stessa cosa Per la bassa densità E media densità Mentre se avete Una distanza nel mondo Cioè una grandezza del mondo Definita vi consiglio Di giocare con Estrema 16 grandi asteroidi Ragazzotti Sono pochissimi Non avrete nessun tipo di problema Tranquilli Cioè semplicemente questo Questo qua Indica il numero di asteroidi Mentre Se avete Problemi di rendering E problemi di prestazioni Vi consiglio di giocare Con flora density Cioè la densità Delle piante Su bassa Perché fidatevi ragazzi Si fa sentire Assolutamente Su extreme Avremo delle grandi foreste Popolate Mentre su medium Le avremo un po' Con alberi Piazzati Sporadicamente E niente ragazzotti In questo episodio Abbiamo trattato Come cambiare modalità Quindi passare da Una branch All'alto Le impostazioni Generali del gioco Passando dalle grafiche All'audio E ai comandi Per poi passare infine Alle impostazioni Generazione per il mod Con tutto questo Insieme ai miei consigli Per tutti i vari computer Nelle varie fasce Io ragazzotti Vi ringrazio per avermi seguito Vi invito a lasciare Un mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate Di questo tutorial E se avete delle richieste Particolari Ma sappiate che Arriveranno tutti i tutorial E andranno più o meno In ordine Cioè dai comandi base Cioè dalle cose base Fino ai più complessi Nulla ragazzotti Ho parlato abbastanza Per questo episodio Io vi ringrazio ancora Sono Gold E noi ci vediamo Al prossimo episodio Bye bye